Musica Ciao ragazzi qui l'Alex bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con un nuovissimo episodio Su Let's Play di Resident Evil 5 qui con me come sempre c'è il grandissimo Morx Gamer bentornati Mamma mia raga andiamo avanti con le paludi erano rimasti qui raga dopo la ferrovia all'antica Allora ragazzi io e Morx ci stiamo divertendo un bordello a fare sto Let's Play Potremmo lo pulire lui Ok Cos'è Oddio Oh madonna santa Ma che bastardo Vabbè era morto quindi sono stato più buono Beh si giusto Visto da sto punto di vista giusto Ok io li cecchino tutti Si Uno Oddio Ma non l'ho washottato ci speravo Ok Tu sei morto Non li faccio salire ragazzi No è saltato quel bastardo Ricarica ricarica Madonna quanti Ricarica veloce Ho preso la mia P5 Ah l'hai preso Ma l'hai comprato prima Si Merda ho sprecato le cose Vabbè Ragazzi mi son comprato la pistola nuova Cazzo Tento sto coso di merda Volante Ma chi è che ci spara le bombe Aspetta che c'è qualche infame che ci spara le bombe qua Oh senti Non è giornata Quindi per favore Batte la fanculo Grazie Ok Spare munizioni Ma chi è che spara Ma Ma mi incazzo Dov'è Ah eccolo lì l'infame Ciao Chi è Ok l'ho ucciso Forse Cos'è No cosa fa No Cosa sa cos'è Pezzo di merda Ok quindi il nostro obiettivo è adesso andare a schiacciare quell'interruttore Ok questo è morto Questa Ahia Maledito le spalle sto infame Aspetterò che Chris sia bordo Perché ha le vento a muovere sgordo Merda Il zato Ah Stronzi Questa qua muove le zatte L'aspetterò che Chris sia in una posizione giusta Allora stai lì che adesso Forse Ah eccola eccola vai muovila Ah è vero qua devo fare il quick time event con i coccodrilli Forse Se mi ricordo bene Bro vai veloce però Perché qua c'è nei coccodrilli Vai ma gira così Ah proprio così vabbè Oh Catroia Ah Oh cazzo E spara Vai chi è che ti spara Uno mi ha messo un mazooka ma arrivato addosso Ah eccolo Eh non riesco a beccarlo da qua però Oddio Sta zattra di merda di come la mano Ok l'ho ucciso In teoria Ah Ok sono arrivato Ecco il tasto Bam Ottimo puoi passare adesso Cioè possiamo passare Tuttago sto coso Ok E passiamo Si è già andato avanti Sono qua dentro la galeria Ah è sto qualcosa Cosa Non riesco a prenderlo c'è qualcosa di Ah Come cazzo Con coltello forse Oh La treore Oddio Trisal Ah sta qua è la cugina dell'Umbrella praticamente La Trisal Ok L'erba alta C'è un pokemon qua in mezzo Ci sono Di quei mostri Di quei serpenti Siamo quasi arrivati alla raffineria Un gioco Guarda qualcosa c'è Voi ho trovato un tesoro Comunque dovrebbe essere 16 capitoli Quindi Cioè Contandoli sono 16 Poi vabbè sono Perché c'è 3.1 3.2 Quindi In 16 episodi Dovremmo finirlo in teoria Plagas di tipo 3 Test su campo E' passata una settimana Dal primo test su campo Per la Plagas di tipo 3 Rispetto alle versioni precedenti Il tipo 3 E' stato progettato Per incrementare Sensibilmente Le doti fisiche dell'ospite Vabbè Qua la ragazza Spiega un po' Il virus Della Plagas Questo virus Che c'è Mi presentivo il 5 Perfetto Che io preferisco Miliardi di volte Il virus T Aspetta che qua Io qua Aspetta Io qua mi ricordo Vagamente Che c'è Dei tesori Se non sbaglio Infatti Guarda Madonna che memoria Io faccio un po' Fatemi una statua No dov'è? Eccolo Guardalo lì Ecco Grande Ok C'è nient'altro No non sembra essercene più Perfetto Andiamo ragazzi Mamma mia Io qua Perché mi ricordo Questo pezzo Non mi piaceva per niente Perché? Ecco il perché Irving Pezzo di merda Arriviamo Qua ci sono Un bordello Qua c'erano anche Quelli con la matosega Mi pare Ok Headshot Headshot Lo dobbiamo fare qua? Eh c'è Dobbiamo girare Le valvole Per passare Oh cazzo Cos'è? Oh madonna Altri Vai 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 Ok Ok Una 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 Bastardo Sì ma sono dei codardi Cioè attaccano Dalle spalle Oh merda C'è un verme Ah No sto morendo Sto morendo C'è delle cure? Ce l'ho anch'io Ce l'ho anch'io Ok Che culo Perché stavo Proprio per morire Ok Beccatevi questa Anche tu lì Oddio ma non l'ho preso Ma che bug Cioè non c'è stata Granata non l'ha preso Ma sono troppi Sono troppi Moriremo Moriremo Ma che moriremo Non dire così Oddio Eccolo lì Arriva il macio No no io sto morendo Non ce la farò mai Sto crepando Ma le Ma le hai girate Alla valvola sopra? Sì sì Due Due valvola girate Ah ok Perché Io sto in fin di vita Merda Merda No Sono morto io bro Come? Dove sei? Sono morto Ero giù Oh Non ho più cura Madonna che brutta fine Che gli ho fatto fare a questo Se io sto qui E sta porta non la apro Qui l'ho cura molto secca Non scende Quindi tu puoi andare ad aprire L'altra valvola Eh ma da che parte devo andare? Lì a sinistra In basso a destra Tu Non ho capito un cazzo Non ho capito un cazzo Non ho capito un cazzo Ah e qua sto vedendo Da 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 te Ma mi sa che non puoi aprirla Senza andar lì eh Di per forza Sì devi per forza Profilo Eccolo Ah beh è solo uno Eh però è tosto questo cobro C'è pensi te Eh c'ho quattro Eh sì certo Ah però c'ho tre Granati incendiari Quindi teoricamente Yowie Ok Vai fallo venire da me Sto infame Dov'è? Dov'è? Aha Stai seguendo a te No non dirmelo Ah è vero Ce l'hai dietro Aspetta Eccoti l'arribot Ciao Vai 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 E quindi mo lui Non puoi seguirmi qua Ce ne sono due adesso Ciao bello Boom Dov'è l'altro? C'è un'ansia che mi viene da dietro Oh no Cazzo Mi sono bruciato pure io Bam Dai stronz Grande Dai Bam Ci muore o no Porca di quella puttana Ah Ma raga niente Non vuole morire Mai nella vita Possiamo andare Corri corri Eh però ci davano i tesori questi Fa niente Ah Oh no fa niente Fa niente Scappa 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 Oh Quanti sono Quanti sono Oh merda Quanti È il passato E io no però Oh madonna Anch'io anch'io No che culo di merda Che abbiamo Che culo Raga che cazzo abbiamo fatto No ma lo sai che abbiamo avuto Un culo da madonna Ok raga Filmato Josh Sheva You're alive Are you okay Well How did you get here We At the port When we were attacked And then I Appear Where's the rest of the team Shit It's just the three of us now Why did you not retreat I mean We are no match for them I've got unfinished business The hard drive containing data On the B.O.W. experiment Had a picture inside The picture was of Chris's friend A friend I'm not leaving Until I catch Irving And find out what the hell's going on here Let's save the chit chat for later It's just a time Let's go I'm not leaving When we were at work Sheva Cover me Hurry ok ok sta arrivando un'orda della madonna caproia dobbiamo coprire lui eh perché deve aprire la porta Nardo non c'ho più niente 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 Anche io ok fuci la pompa ottimo vai 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 oro vedo da che parte arrivano eccoli da qua da qua da qua anche da di qua merda dopo la finestra quando ci vuole non c'è un countdown bruttoso no ce l'ho quasi fatta vai muoviti Josh cazzo ci vuole tutto il giorno eh cazzo più niente di colpi eh vai 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 dentro ma chiamo muovi ok 12 Vai Via Move move Oddio Pensaci tu che non c'ho munizioni Aia Vaffanculo Niente ragazzi io corro Non posso difendermi Ok munizioni Quello che volevo E che palle Ma fatemi prendere le cose non posso difendermi Nina Su 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 Via 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 No No Figlio di puttana Mastica con la balestra sono stronzissimi Un'altra porta Eh che cacchio Bro non ho colpi Io non ho niente È chiusa Spera c'ho la mina La posiziono Non lo so Questo è un problema Eh ciao Ci vuole tanto qua bro Merda Eh Vabbè io metto la mina Sono l'unica cosa che ho Merda Faccio un po' di granate io Ma non Merda Ma il coglione Chris Me la riprende Boh la la metto qua Merda Ma ce l'è una Ok io ce l'ho una cura Bro dove sei tu Qua C'è quello con la gra Madonna santa Incolonata Ok via Mia 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 Chris morte Mia Sì 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 E Josh Sì Sì Ok Sì 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 Proiettile la pistola A meno un po' a me Figa Ok Sto provando ad esplorare da quest'altra parte Vediamo Oro 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 Chiuso dall'interno Tutte chiuse sono qua le porte Ma che cacchio è? Cosa? Ah ok Wow Eccolo lì Sto infame Quanto lo odio E' lei quello lì? Ok te lo spoiler Sì è Jill Però è sotto tipo controllo Il loro controllo Perché c'era tipo una cosa Attaccata al perto Ok Eccoli Arrivano Sulla barca Sulla barca Eh no il problema è che è dall'altra parte la barca Cioè dobbiamo farci tutto Dove stavo andando io praticamente Via Un po' un po' in mano Un po' in mano Bastardi Qui qua mi ricordo che c'era un emblema però non c'è tempo per cercarlo Un'bagliato Mi ricordo Un minuto No m'ha preso Affanculo Ok Ok Le parole è a famiglia che sei stato eroico Ma che stronzo Aspetta Via 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 Ti sta bene Guarda Corri Corri più veloce che puoi Oh Jimmy Josh che Jimmy Via 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 Vai sono arrivato Oli è morto Ma non muore Ok filmato Aspetta aiuto Bene ragazzi Ebbene sì Abbiamo finito una gara Un altro episodio Troppo guadagnato Puoi visualizzare Su Sheva Olomar Perfetto Ragazzi che dire Se il video vi è piaciuto Vi invito Ovviamente se volete Supportare la serie Lasciare un bel pollice Nell'insù Un bel like Ragazzi Per chi sta vedendo Questo video E ancora non si è iscritto Ai nostri canali Che si iscrive Insomma E noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo Episodio Sull'espre di Resident Evil 5 Non mancate Bella Bella